Bentornato su 10 LOL! Pronto per il nuovo test settimanale? Guarda le foto e collega ogni tatuaggio ad una celebrità! Somma le risposte esatte e scopri il tuo profilo! Si ricorda di essere forte ogni volta che lo guarda! Demi Novato, Selena Gomez, Miley Cyrus Le due rondini simboleggiano il viaggio e sono di... Liam Payne, Lewis Tomilson, Harry Styles Si è tatuato l'occhio della mamma! Austin Mahon, Liam Hemsworth, Justin Bieber Il segno dell'infinito è di... Queste due maschere sul torace sono di... Robert Pattinson, Tyler Posey, Ross Lynch Di chi ha questa scritta in numeri romani a un cuore? Taylor Swift, Miley Cyrus, Ariana Grande Chi è che ha una donna con testa di cavallo tatuata sul braccio? Moreno Donadoni? Emi Schilla? Fedez E quindi quante risposte esatte hai dato? Da 1 a 3 I tatuaggi non sono il tuo forte, forse non ti piacciono e non li noti neanche sugli altri, ma le star amano esprimersi anche attraverso l'inchiastro sulla pelle Il tuo voto nella scienza dei tattoo? Rimandato! Da 4 sei risposte esatte Ci sei quasi! Anche se non hai riconosciuto tutti i tatuaggi, sei a memoria quelle delle tue star preferite Il tuo voto nella scienza dei tattoo? Promosso con 2 debiti 7 risposte esatte Complimenti! Sei un vero maestro nel riconoscere i tatuaggi delle star Non ti sfugge niente, nemmeno i più piccoli e nei posti più nascosti Il tuo voto nella scienza dei tattoo? Promosso con l'ode E tu quante risposte corrette hai dato? Faccelo sapere scrivendolo nei commenti E soprattutto non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube di Diecelol Una ragazzina di 17 anni stava navigando sul computer E lesse che ci sarebbe stato un concorso per andare a cena con uno solo degli One Direction Quali di questi premi non è mai stato vinto dagli One Direction? Bambi Awards American Music Awards Brit Awards Bambi Awards Parmi 54 Nessun Grazie a tutti.